Buonaventura, buonasera dallo studio centrale di TV6 una piacevolissima serata al Curi di Perugia dove il Pescara ha sferato il colpaccio Perugia-Pescara è stato sicuramente un bello spot per il campionato di SLC, partita di emozioni alto livello tecnico il Pescara ha messo in serie difficoltà i padroni casa avrebbe meritato di più, sicuramente è un Pescara che piace buonasera ai nostri ospiti, saluto il direttore sportivo del Pescara Daniele De Vicarri, buonasera e grazie direttore, al suo fianco l'assessore al comune di Pescara l'avvocato Luigi Albori Mascia, buonasera Luigi, ben ritrovato c'è sempre con noi Francesco Di Francesco buonasera Francesco al suo fianco l'altro compagno di viaggio Riccardo Clinco, buonasera Riccardo e poi ritroviamo con piacere il direttore del portale Forza Pescara il collega Paolo De Calis, buonasera saluto a Maurizio Daguin regia Andrea Costantini buonasera Andrea buonasera Enrico, serata con diversi posticipi nel girone C sono tutte sullo 0 a 0 Benevento Virtus Francavilla, Foggia Giuliano Juve Stabia Avellino e Picerno Taranto anzi no perché in questo momento segna il Picerno contro il Taranto, 1 a 0 saluto anche il nostro assistente di studio Antonio Di Berardino allora, è un Pescara che piace piace davvero De Vicarri complimenti dopo due giornate per il lavoro svolto dalla società dal DS, dall'allenatore e dalla squadra Sì, siamo all'inizio sicuramente qualche difficoltà in più ce l'aspettavamo mentre siamo partiti molto bene però è una squadra che si vede che gioca e questo è un aspetto importantissimo che ha l'idea chiare che ha un allenatore che ha dato l'idea chiare alla squadra è una squadra funzionale questa è la verità E' d'accordo che la partita di ieri difficile vederla anche in campionati di categorie superiori? Beh, la partita di ieri secondo me è stato veramente un qualcosa di bello per il calcio perché quando vai a vedere partite così ti riconcili anche dopo quello che vedi tante volte di sbagliato ieri chi è venuto alla partita o chi ha visto la partita in televisione secondo me l'ha vista in maniera piacevole e divertente Stiamo esagerando nella valutazione Luigi oppure sei lo stesso avviso? No, non stiamo esagerando commentiamo quello che vediamo abbiamo visto due prestazioni di ottimo livello quella in casa con la Juventus e quella di ieri che forse a livello tecnico anche considerate le situazioni ambientali anche considerato l'avversario secondo me è addirittura di livello superiore rispetto a quella che abbiamo visto in casa poi possiamo parlare del rammarico per il risultato ma credo che in questa fase del campionato conti soprattutto vedere già la dimostrazione palmare che è questa organico e funzionale al gioco di Zeeman e mi pare che le condizioni ci siano tutte Perché il Pescara non ha vinto Paolo? Ma per tanta imprecisione negli ultimi metri eccessiva precipitazione però io adesso butto subito benzina sul fuoco io sono tra quelli che ritengono la prestazione di Cuppone più che sufficiente perché al di là degli errori nella gestione degli ultimi metri ha messo cuore gamba corsa è stato quello sempre più pericoloso è mancato sicuramente di altruismo però nel vivo della partita e nel tener viva la partita ci ha pensato Cuppone per quasi tutta la durata del match Sarà un argomento che tratteremo perché è salito sul banco degli imputati forse in maniera ingenerosa Ti ho detto che avrei buttato benzina sul fuoco ma di fronte a un giocatore che ho visto anche i report è stato tra quelli che ha corso di più che ha comunque sempre giocato i palloni decisivi in fase d'attacco è stato in tutte le azioni il più pericoloso cioè se lo score serve per avere una dimensione di quanto uno ha fatto nel corso di una partita i numeri danno ragione a Cuppone Tu Francesco sei d'accordo oppure continui a puntare l'indice su Cuppone? Puntare l'indice su Cuppone in alcuni episodi è giocato bene quello che ha detto Paolo è sacrosantemente vero lo abbiamo visto però abbiamo visto anche che forse in qualche occasione soprattutto l'episodio sul finire in questo momento non mi ricordo chi era il compagno libero sulla sua destra ma se lo serviva lì forse era sarebbe stato più facile per il compagno fare gol di solito gli attaccanti sono egoisti accettiamolo così sempre meglio un Cuppone magari un po' troppo egoista ma che gioca come ha giocato ieri che magari con una prestazione inferiore e poi l'importante è esserci in quel momento Riccardo non toccate Cuppone Cuppone per me è un giocatore che è generoso punta ogni tanto magari non è molto lucido ma fa un lavoro pazzesco recupera le palle corre, fa gol tira è su tutti i palloni ti metti la gamba averne 10 giocatori così più lui io sono un fan di Cuppone dall'anno scorso lo sai io amo i giocatori che ci mettono il cuore poi ha sbagliato va bene la prossima volta farà gol non è un problema non ha dato la palla va bene ma un attaccante è giusto anche essere egoista e non vedo tutte queste atletiche anzi per me 8 in pagella forza Cuppone perché è un uomo veramente che ci mette anche se sbaglia uno così cosa gli vuoi dire Luigi Cuppone è un giocatore alla Gaudenzi è uno di quei giocatori che da tanto Gaudenzi scusa ma Gaudenzi se lo ricordano quelli che hanno la nostra età però credo che tra il pubblico ci sia anche qualcuno che ha la nostra età io per esempio sinceramente non me lo ricordo perché sei più che è un giocatore generoso è un giocatore che da tanto io credo che tra un mese Cuppone non sarà più il titolare di questa squadra però questa è una mia idea perché in questo momento Zeman deve vedere tutti i giocatori e Zeman crede nelle gerarchie dei giocatori poi c'è una chance per tutti però ci sono fuori due giocatori come Vergani e Tomassini che secondo me hanno un tasso tecnico rilevante e fino adesso sono rimasti ai margini per infortuni ma avranno la loro possibilità ma Cuppone rimane comunque un giocatore importantissimo per questa squadra semmai il problema di questa squadra in questo momento è Merola non è Cuppone qui è come quei sindaci bravi che fanno tante cose e vengono criticati quelli che sono meno bravi invece passano nel dimenticatorio e nessuno li critica ma Merola in questo momento è puramente il momento di Merola è un momento difficile da Merola ci si aspetta un argomento alla volta chiudiamo il discorso Cuppone la società anche poi sentiremo il presente Sebastiano e lo stesso allenatore Zeman hanno tirato un po' le orecchie perché è giusto che sia così ma in maniera benevola perché si chiede sempre di più a tutti io sinceramente per me è incriticabile della partita di ieri perché al di là della corsa dell'impen ci dimentichiamo ci dimentichiamo che Cuppone ieri ha fatto tre assist davanti alla porta a tre giocatori diversi da Gas Cangiano Merola davanti alla porta per far gol e quindi avremmo dovuto condannare anche loro non condanniamo nessuno hanno fatto tutti un'ottima prestazione poi l'imprecisione ci può stare è normale che ti arrabbi inizialmente ma poi se ci pensi se al 92 riesci ancora a dare profondità alla squadra mettere una palla dentro per Cangiano bisogna anche essere un po' obiettivi e oggettivi andiamo a sentire subito Zeman al microfono di Paolo Renzetti penso che insieme è una buona partita poi magari io sono deluso per il risultato perché pensavo che meritavamo di più anche se ci manca qualcosa specialmente l'aggressività da cominciare da davanti a centro campo poi tutta la difesa non può fare tutto una tiratina d'orecchie a cupone questa sera forse non guasterebbe troppi gol sbagliati anche in maniera clamorosa ha giocato una gara di grande generosità però ha sbagliato troppo non basta generosità bisogna saper colpire nei momenti in cui si può e lui aveva delle possibilità purtroppo mi ripete quello che facciamo in allenamento lui mi tira come ci viene invece lì ci vuole concentrazione e convinzione che si fa cosa nel finale di partita mister c'è stato un calo più mentale o fisico della sua squadra non credo perché poi noi aspettiamo troppo noi dobbiamo aggredire l'avversario se le facciamo giocare è normale che arrivano davanti 16 metri e poi ci troviamo in difficoltà lei a vigilia aveva detto che la squadra era un po' in confusione quindi sarà contento di quello che ha fatto la squadra sul piano del gioco fino ad oggi in questi primi 180 minuti di campionato io ripeto il concetto la squadra riesce a giocare qualche cosa anche se ripeto per giocare contro avversari dobbiamo cercarli noi non ci devono cercare loro e quindi voglio più aggressività e più giocare sulla palla dell'avversario ultima domanda mister una curiosità nel secondo tempo lei ha operato quel triplo cambio sono entrati tanti ragazzi qualcuno pensava potesse entrare Mora come mai invece questa scelta voi lo pensate tutti perché per voi Mora è importante per me pure ma bisogna vedere che cosa si vuole dalla squadra di più ritmo o più più tattica lui è più tattico e quindi non mi sembrava occasione in questa partita riutilizzarlo ma che cura gli avete fatto a Zema che è ringiovanito sembra tirato come non mai lucido ironico lucido ironico perché si diverte perché è una squadra secondo me che ha capito che ha i canoni suoi sembra appagato di questa squadra non è mai sì non è mai contento perché giustamente ha pagato come composizione una riflessione giusta sull'aggressività che è una cosa importante sulla quale noi battiamo tutte le settimane sul fatto di andare a aggredire noi e non che ci vengono a aggredire però sicuramente non si aspettava neanche lui come non me lo aspettavo neanche io di partire così in questa maniera e di avere abbastanza fluidità anche nel gioco ecco ma i dubbi che avevate erano legati alla condizione fisica prima di tutto alla condizione fisica ha fatto di avere molti giovani quindi prima di tutto la condizione fisica perché quando si fa un ritiro col mister non è un ritiro semplice è un ritiro che è è vero che questa volta ha anche allungato ha allungato di una settimana quindi è stato più complicato fare il ritiro con lui quindi sapeva che potevamo non star bene anche perché durante il precampionato tutte le amichevoli che lui ha fatto compreso la Coppa Italia ha dato veramente zero peso come l'abbiamo dato noi naturalmente zero peso perché venivamo da settimane interminabili di lavoro dove bisognava arrivare il 3 settembre il 2 settembre a stare a stare discretamente bene quando lui dice aspettiamo ancora troppo cioè cosa chiede una difesa più alta non so più pressione ci sono stati degli episodi soprattutto più che davanti io in mezzo rivedendo la partita anche stamattina in mezzo delle volte abbiamo aspettato troppo ma molto ovviamente perché siamo anche calati in momenti della partita dove loro sono stati più bravi perché loro in mezzo al campo comunque avevano tre giocatori importanti ma la forza poi di questa squadra però squizzata Loi D'Agasso mi è sembrata una mediana sì è vero qualche volta ha avuto quelle pause che ha permesso al Perugia e infatti lui intendeva quello quella pausa lì che noi non ci possiamo permettere perché siamo una squadra che giocavano per la prima volta insieme a Perugia è anche vero quello è anche vero quello sicuramente la condizione poi tant'è vero che è squizzato poi non ce l'ha fatta più è dovuto uscire la condizione ancora non è ottimale per tutti quando si arriverà a quella condizione ottimale sicuramente si aprà una pressione diversa allora prima Luigi parlava di Merola che ancora non riesce a risprimersi al top ecco qualcuno sostiene che potrebbe avere qualche problema fisico preoccupante o no? no non è assolutamente preoccupante forse uno di quelli che è più in ritardo ma forse perché noi vediamo anche l'aspetto del gol sicuramente ieri poteva fare due poteva fare due gol non li ha fatti nessuno di due la domenica prima con la Juventus idem è normale che da lui ci aspettiamo tanto sta affinando la mira dalla squadra ci aspettiamo tanto dalla squadra e se fosse un problema psicologico di responsabilità che Merola sente essendo uno dei leader di questa squadra e tra l'altro il giocatore su cui avete puntato per trattenerlo dopo l'ottimo campionato dello scorso anno può essere anche se fosse così si sbloccherà anche lui in un contesto come il nostro perché bene o male tutti i giocatori sono importanti l'ha detto anche il mister riferito anche all'ultima domanda su Mora noi dobbiamo dobbiamo guardare il gruppo oggi non possiamo guardare il singolo e quindi di conseguenza dobbiamo recuperare tutti i giocatori è stato molto chiaro è stato chiaro cioè Mora non è un giocatore che può entrare è stato di una onestà veramente da baciare ha detto Mora è un giocatore se ti serve la tattica qui a noi la tattica non serve serve la corsa Mora allora preciso subito una cosa il direttore è a vostra disposizione quindi quando vi viene in mente di chiedere qualcosa di dialogare fatelo liberamente perché io metto il pilota automatico e vado a parlare con Andrea Costantini giusto per la scelta ma io mi sono permesso di no 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 dovete lo sto chiedendo io perché con il direttore possiamo affrontare allora io volevo chiederti una cosa generalmente la preparazione di Zeeman è molto pesante però io ho visto che sia con lo Juventus che col Perugia invece i ragazzi sono molto pronti ha variato lui un po' la preparazione oppure anzi è stata più dura è stata più dura secondo me con la Juve il primo tempo siamo stati bravi perché siamo stati corti in 35 metri il primo tempo e poi siamo calati anche lì ma è la norma cioè in questo periodo è tutto nella normalità può essere una cosa psicologica e anche fisica però è normale che queste prime 3-4 partite saranno ancora con i carichi addosso dove dovranno togliere tutte le scorie della preparazione perché 29 giorni continui senza avere un giorno di riposo sono sono molto pesanti la sua preparazione è molto pesante e quindi di conseguenza io mi aspetto un miglioramento a livello fisico di tenuta di tutta la partita e non di quelle pause di cui lui parla di andare sempre ma perché hai condizione quanto ci sta divertendo questa squadra le premesse sono sono ottime direi due prestazioni che sono poche però sono già sufficienti per poter capire intanto quello che abbiamo sempre detto che Zeman è uno che ha bisogno di lavorare sin dall'inizio con i giocatori fargli una certa preparazione l'anno scorso ha compiuto un miracolo dal mio punto di vista arrivando dove è arrivato il Pescara però le condizioni migliori in cui può essere un tecnico di questo livello con il suo carisma e con le sue caratteristiche è proprio quello di potergli far fare tutta la preparazione di scegliergli un organico che sia funzionale al suo progetto a questo proposito volevo chiedere visto che ce ne dai la possibilità a Daniele Zeman dieci giorni fa dichiarò che non conosceva Franchini Franchini è arrivato ti chiedo se l'ha conosciuto almeno Franchini ma sì che l'ha conosciuto però l'ha dichiarato devo dire la verità è anche semplice lavorare con un allenatore come lui perché meno male ti indirizza molto sul discorso delle caratteristiche quindi se uno ha un minimo di conoscenza del calcio ci leva una curiosità come funziona la composizione della squadra con Zeman non dà nomi ovviamente no ma al di là dei nomi non nomi io non l'ho mai chiamato quando noi abbiamo preso i giocatori io singolarmente io gli dicevo domani arriva domani arriva domani arriva è stato così ma è sempre stato così ma anche l'anno che vincevamo il campionato dalla B alla fu la stessa cosa a parte quei tre giocatori ma ha fatto così anche nelle altre società non so se lo sa sì lui quando va nella fiducia della persona che lavora accanto a lui non si crea nessun problema perché lui allena fa l'allenatore allena non ha problemi se tu gli prendi le caratteristiche giuste si possono sbagliare naturalmente non è che si azzecca tutto nel calcio finora non ti ha mai detto ma chi mi hai portato no mai mai lui mi chiede le caratteristiche dei singoli giocatori come Franchini mi ha chiesto se può fare la mezzala sinistra piuttosto che la mezzala destra ma non mi chiede il giocatore che giocatore è da squizzato a Tuncio a Cornero allo stesso non è che li conoscesse così a fondo è naturale che poi il rapporto lavorativo deve essere un rapporto di fiducia perché se non c'è rapporto di fiducia si fa fatica anche a lavorare però lo scorso anno quando è subentrato aveva trovato la squadra già allestita mi disse una cosa mi parlavate per chiedere sì sì lui mi disse una cosa che al di là che aveva trovato una squadra preparata fisicamente da dare merito anche a chi l'ha preceduto con una base molto importante tanto è vero molto bene Colombo cioè io è vero è vero è la verità ha lavorato benissimo ha fatto un girone d'andata scoppiettante poi che cosa si è accaduto cioè la gestione di Lescano è stato sicuramente poi lì ma no ma la gestione non è una gestione del singolo tante volte Pescara è una piazza comunque che ha esigenze bisogna gestire a 360 gradi più forte l'organico dell'anno scorso o quello di quest'anno più funzionale no no finisci finisci allora non è nel discorso di poi gestire il singolo il singolo giocatore si gestisce è il gruppo da gestire perché noi facciamo non ci dimentichiamo che noi facciamo la serie C non facciamo la serie A nella serie A se tu mi togli le A o all'allenatore togli le A o molto probabilmente gli devi prendere uno simile alle A o perché fai quella categoria che è la categoria alta dove c'è bisogno di grande qualità di grande corsa ma di grande qualità la serie C è questa bisogna trovare i giocatori dedicati al sacrificio un gruppo dedicati al sacrificio perché sennò diventa difficile e complicato e vado al discorso della gestione di Lescano una gestione di un singolo non può far capitare quello che ci è successo a noi in tutto quel periodo lì di due mesi e mezzo troppi perché il singolo non ti può incidere realmente è la squadra che incide lì c'è stato secondo me un problema anche di natura comunicativa nel senso che lui ha gestito male l'aspetto comunicativo perché l'allenatore era partito benissimo l'allenatore che gli è subentrato ha trovato una squadra preparatissima e quindi non possiamo condannarlo però nel calcio poi succede anche questo bisogna prendere le decisioni io sono qui per questo tante volte c'è rammarico ma poi bisogna essere anche lucidi non pensare a quello che hai fatto perché si è sbagliato perché poi l'allenatore l'ho scelto io e l'avevo portato io è un fallimento anche per il direttore sportivo e quindi tornando a Zemona quando è arrivato cosa ha chiesto sulla squadra? a parte Merola che conosceva Brosco che l'aveva avuto Mesic che aveva parlato con qualcuno del suo paese sicuramente per farsi dare qualche indicazione in più ma io tant'è vero che lui mi ha chiesto la descrizione di ogni singolo giocatore della sera che sono stato con lui e gli ho detto non voglio crearti un nessun alibi o vedi tu quello che vedi tu mi interessa appunto invece in estate avete lavorato in pieno c'è un giocatore che volevi prendere che non sei riuscito a prendere che magari poteva completare meglio questa squadra? no devo dire la verità il mio c'avevo le idee chiare già da maggio neanche da quando era finito l'8 giugno quando c'è finito il playoff ero abbastanza con le idee chiare sapevo che dovevamo riconfermare lui quindi faccio esempio di due giocatori in particolare squizzato Tuncio io a maggio ero già avanti in una trattativa che l'avrei presi anche se andavamo in B li prendevo tutti e due perché per me potenzialmente rispecchiavano un po' quello che era il suo il suo modo di giocare e quindi le idee erano chiare su tutti i ruoli poi è normale qualche trattativa ogni tanto si San Nipoli ma sì ma San Nipoli vale Franchini come non mi valeva il singolo abbiamo fatto passare questo San Nipoli però è vero che questa storia cioè che il Pescara non l'ha preso per 20 mila euro assolutamente non è vero assolutamente zero perché questa è la versione zero ma neanche a parlarne lì c'è stato un discorso molto chiaro col suo agente e con la società loro io fui molto chiaro dicendogli questo è questo rimane io sono il Pescara tu da Pescara da Latina vieni a Pescara questo e così gli disse alla tua società è una fortuna che trovate qualcuno che vi può dare i soldi perché in quel caso da lì poi sono partite da lì sono partite enorma ma è un capita ma io ero non è che in quel momento ero fermo a San Nipoli guardavo avanti c'erano tante tante cose in piedi ma sapevamo che le caratteristiche poi dovevano essere quelle che poi si fa il nome San Nipoli come potrebbe essere il nome Antonio Francesco Giovanni sono stati fatti tanti ne sono stati fatti però gli obiettivi li abbiamo raggiunti più più forte la rosa dell'anno scorso o quello di quest'anno? più funzionale la rosa di quest'anno più forte allora partiamo da un presupposto ne abbiamo avuto un giocatore di passaggio che non possiamo nasconderci perché se no ci nascondiamo dietro un dito con 14 assist con 14 gol realizzati quindi non è che possiamo pensare di trovare un altro Rafià ecco perché parlo di funzionalità questa squadra è più funzionale e ha più caratteristiche per lui vicine all'allenatore all'allenatore tecnicamente come cifra tecnica è più forte la squadra in mezzo se dobbiamo parlare sulla tecnica che avevamo l'anno scorso con un giocatore singolo già ti alzava il livello adesso molto probabilmente con Tunchov squizzato a lui Mora stesso Mammanu stesso De Marco tutti i giochi Franchini stesso avremo una rosa molto funzionale in mezzo al campo quindi dove lui potrà scegliere veramente quello che è ecco ma è possibile per fortuna che nessuno si sia accorto di questo Rafià che era così bravo abbiamo già raccontato la storia guarda ma la storia di Rafià è molto semplice Rafià io lo conosco da un sacco di anni perché poi giocava con mio figlio era un giocatore che io pensavo devo dire la verità la prima volta che l'ho visto gli disse anche a mio figlio una partita andai a vedere il mio figlio Juventus Fiorentina a Torino disse voi avete un giocatore fuori concorso qua che non so che cosa fa con voi invece di stare in prima squadra poi purtroppo succedono delle cose e succedono anche ai giocatori forti lui secondo me ha avuto una parabola discendente nel senso che ha iniziato pensando di essere un giocatore importante lo definivano un mezzo Zidane alla Juventus dove avevano delle aspettative alte queste aspettative non sono state rispettate prestito allo standard quindi avremmo bisogno di un bagno di umiltà ma il ragazzo no assolutamente il ragazzo un'unità calcistica sicuramente aveva bisogno di trovare un allenatore forse come lui che gli ha dato una fiducia incondizionata nonostante non fosse un giocatore per lui ecco perché parliamo poi di funzionalità però poi il mister giocatore di qualità gli ha sempre fatti giocare ed aver se ne ha approfittato vedendo l'opera ogni giorno l'ha vista ogni giorno è normale però io gli sono stato addosso da luglio io già a luglio volevo portarlo poi è capitato a gennaio purtroppo a luglio non c'è stato verso perché c'era un procuratore che non voleva che venisse a Pescara mentre a gennaio abbiamo trovato un procuratore molto aperto che venisse a Pescara a Cornero vale il miglior delle monache formato Zeman dei playoff posso agregarmi alla tua domanda ma è più forte a Cornero o Cangiano? sono più o meno sono due giocatori forti perché molto Cangiano è ancora più forte sono due giocatori forti con età differenti sì stiamo parlando di un 2004 un 2001 tre anni di differenza ma due giocatori forti che con caratteristiche per il nostro allenatore hanno quelle caratteristiche lì e quindi per lui sarà difficile scegliere a Cornero è un ragazzino però Cangiano l'abbiamo visto solo ieri a Cornero ha delle caratteristiche ma anche Cangiano sono due giocatori adatti a lui lì avrà veramente ma come Masala stesso non ci dimentichiamo che è un 2004 le coppie che sono state formate sono state anche evolute che non ci dimentichiamo anche questa è una caratteristica dell'allenatore che quando fa una scelta su determinati giocatori ne sceglie 15, 16, 17 porta avanti il suo credo anche il fatto di costruire una coppia giovane grande relativamente perché stiamo parlando 2004-2001 2004-2000 dall'altra parte i tersini 2004-2001 2001-2003 sono state fatte con un criterio con una logica pensando che quello che molto ovviamente è più bravo è anche quello dietro che arriverà davanti ma la logica era questa i campionati si vincono sì con i soldi ma soprattutto con le idee e voi ne avete avute tante tante sì sì ma secondo me vale una vale un almeno per me vale una regola creare una filosofia al club dove poi innesti l'allenatore dove innesti i giocatori questo secondo me è un aspetto importante e soprattutto in una società che ha vissuto così negli anni il modello Barcellona per capire ma secondo me devi dare una filosofia una cosa importantissima anche creare questa cosa della patrimonializzazione che è difficile fare attenzione se è complicato però poi bisogna avere le idee come dici tu e quindi dal complicato può diventare facile è vero che avete soltanto tre giocatori in prestito considerati anche gli obblighi di riscatto che sono giocatori di proprietà sì sì non succedeva da decenni ma infatti ecco perché la patrimonializzazione ecco perché la patrimonializzazione diventa importante perché ieri non ci dimentichiamo c'erano sette undicesimi dell'anno scorso e non è poco infatti sembra che questa squadra sia stata rivoluzionata ma non è così perché ieri hanno giocato a Cornero Pierno Squizzato e D'Agass erano i quattro nuovi sette erano quelli dell'anno scorso quindi non forse nella rosa nella rosa certo e continuare la filosofia quello deve essere innestare i giocatori che poi ti possano diventare di proprietà nelle squadre nelle squadre di settore giovanile primavera questa filosofia passa? passa molto devo dire la verità è uno degli aspetti più importanti sul quale noi abbiamo fatto una riunione non più tardi 20 giorni fa compreso il mister e rappresenta anche il mister dove si si prova a creare una filosofia già dal basso che deve essere così perché anche tutte le squadre devono giocare no giocare non il modulo di gioco ma avere una metodologia ben precisa è un obiettivo ben preciso è la mentalità è la mentalità l'obiettivo qual è? che io devo crescere i giocatori che possano giocare in Cicol Pescara e siccome l'Abruzzo è pieno di giocatori io non credo che il D'Agassio oggi di turno di cui ha esordito e ha fatto una signora partita rischiando anche di farci vincere la partita non credo che non ce ne siano nel Pescara ci possono essere portare avanti questa filosofia non portare avanti e sempre il risultato il risultato tanto il risultato non porterà mai a niente i giocatori ti porteranno qualcosa e l'allenatore avrà beneficio poi in futuro ma questo tipo di filosofia si può fare perché c'è Zeman oppure con altri allenatori più difficili? no allora questo è anche un altro fattore particolare quando parlo di filosofia del club non deve essere legata all'allenatore deve essere legata a quello che è il pensiero della società è normale che oggi noi parliamo di un allenatore che ha 76 anni che sembra che ne abbia 50 per quello che fa vedere per come allena la squadra e quant'altro non durerà in eterno ma la filosofia molto probabilmente dura non dico in eterno ma dura se saremo bravi poi in futuro se sarà brava questa società in futuro anche a fare scelte perché lui smetterà di allenare scegliere un allenatore che continui ad avere quella filosofia c'è un problema solamente quando noi ci riempiamo la bocca dei giovani gli allenatori si riempiono la bocca dei giovani quando poi si va all'atto pratico di giocare la partita i giovani non giocano e questo è un problema una questione di coraggio una questione di coraggio in calcio italiano si pensa che se un 2007 come Yamal esordisce nel nazionale spagnola 2007 e noi consideriamo un maggiorenne 2004 perché 2004 c'è 19 anni quindi maggiorenne 2005 maggiorenne li continuiamo a considerare giovani e c'è qualcosa che non va perché noi dobbiamo partire sei bravo o non sei bravo mi aggancio una domanda di ti dispiace Francesco se la tieni tanto non scave la tua domanda perché c'era Andrea che si è prenotato da tempo poi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo da tempo se mi dai lo che altrimenti non mandiamo la pubblicità ma la scrivo perché se no non la scordo no chiedo al direttore metto un po' di pepe se in quel gioco delle coppie fatto in precedenza possiamo inserire anche Mora o se nel centrocampo Mora è sostanzialmente il settimo giocatore no ma non c'è una gerarchia il primo il secondo il settimo è stato chiaro l'allenatore molto chiaro l'allenatore quindi non vede una gerarchia vedo partite diverse l'uno dall'altro non vede un problema Mora assolutamente zero perché Mora è stato d'aiuto in quattro mesi dove noi abbiamo fatti i playoff è stato il miglior consigliere del mister in assoluto ma non è andato via perché non c'è stata un'opportunità di mercato no assolutamente anche perché fu lui tanto tempo fa a chiedere di andare via non decidendosi lui realmente cosa volesse fare però poi Mora si è rimesso in sesto e oggi non è un settimo non è un primo fa parte della rosa ci fermiamo qualche minuto è molto interessante l'esposizione dei vari aspetti che circondano la pescata con il direttore Delicare è vero Francesco sta eseguendo con molto interesse pubblicità tra poco notti d'oro in corso Umberto Primo 310 a Montesilvano ha aperto un nuovo store di oltre mille metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali Dorelan Dorsal Simons Manifattura Falomo inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi Noctis Le Comfort Samoa da notti d'oro conviene notti d'oro corso Umberto Primo 310 Montesilvano parlare con i tuoi amici sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione il tuo lavoro rispondere con sicurezza ai loro dubbi tutto questo è più vicino di quanto pensi perché i professionisti dell'udito maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene ritrovare il piacere di ascoltare è semplice e tu cosa aspetti? DZ Insurans Sport oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport prodotti altamente mirati per atleti professionisti un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale questa è la DZ Insurans Sport Zampa Corta assicura lo sport Salve sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio da quel momento da 72 anni la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa nella zona dello stadio triatico Emilio e Alfredo De Florentis 085-66-021 Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali interni ed esterni in tutta Italia realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere ristrutturazioni chiavi in mano attività commerciali impianti sportivi impianti idrici ed elettrici arredamento su misura controsoffitti e cartongesso isolamenti termici ed acustici strutture esterne per gotende e tetti in legno arredo urbano in genere su tutti i social trovi sempre online le nostre novità contattaci su timerevestimenti.it ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? la concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500 500 500X Panda Tipo ed il ritorno del mito la nuova 124 Spider e poi lancia Abarth e veicoli commerciali inoltre la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali la concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara con ingresso in via Raffaello 30 aperti anche il sabato mattino e pomeriggio 21 e 38 minuti rientriamo in diretta allora eravamo rimasti a Francesco di Francesco che devi toglierti una curiosità il discorso che facevi prima sui giovani su una filosofia su una regia è una strategia precisa della società è più facile da poter attuare avendo un allenatore come Zeman oppure ci vuole la forza della società a imporla all'allenatore però poi deve essere bravo l'allenatore sicuramente anche Zeman aiuta molto mi insegni tu a far crescere i giovani è molto più facile sicuramente ma questo non deve diventare perché sennò praticamente dovrebbe continuare ad allenare per 30 anni giusto non deve diventare il fattore dell'allenatore deve diventare il fattore della società se la società ha un'idea ben precisa la società ha sempre avuto questa filosofia perché anche negli anni addietro è capitato qualche disgrazia nel percorso per carità che capita a tutte le società non è quello il problema è dare continuità che non deve l'allenatore deve essere innestato nella filosofia del club non deve essere l'allenatore che porta la filosofia devi essere tu a crederci perché se non ci credi prima tu puoi avere anche l'allenatore più bravo come Zeeman ma se fondamentalmente tu non ci credi non farai mai non darai mai questa filosofia se tu ci credi per primo sicuramente negli anni dovrai andare a cercare l'allenatore che rispecchi quella che è la tua filosofia che non sarà sicuramente facile perché oggi si parla di carenza di calciatori non ci sono calciatori in Italia perché noi vediamo la nazionale c'è carenza di allenatori di gente che sa allenare questa è una notizia per me c'è carenza di allenatori non è carenza di giocatori che giocatori ci sono bisogna allenarli però l'atleta va allenato che è un atleta prima di tutto va allenato e dopo lo formi col tempo tecnicamente per me c'è carenza di allenatori soprattutto sotto è quello che ti volevo chiedere non è che i ragazzi vanno aiutati il 2007 il 2008 il 2006 di oggi che sta nella primavera e lì ma quando dice carenza di allenatori carenza di coraggio degli allenatori di coraggio di insegnare calcio di insegnare calcio di puntare sui giovani di avere la forza di non guardare l'età perché una delle prime cose perché mi è capitato non faccio nomi quando tu vai a dire ad un allenatore conosci facciamo un esempio delle monache mi viene delle monache conosci delle monache la prima risposta del allenatore di che anno è non è se è bravo o non è bravo e qual è la differenza sostanziale tu devi pensare che se è bravo a 16 anni o è bravo a 30 anni se è bravo gioca se non è bravo non gioca questa è la cultura sbagliata nostra io non penso che la nazionale italiana sia una nazionale scarsa noi ci abbiamo dietro dietro ha giocato Scalbini che è dovuto entrare che è un prospetto europeo importante il discorso che fai tu che è perfetto non si completa forse perché a livello giovanile sono i primi allenatori che dovrebbero insegnare qualcosa adesso a questi ragazzi se tu ci fai caso e lo sai meglio di me la tattica 4-3-3 4-2-3-1 4-1-4-1-3-3 invece di insegnare a giocare in un determinato la tecnica io se fossi io lancio un messaggio io se fossi un allenatore da settore giovanile Zeman ha fatto circa 10 anni di settore giovanile va bene circa 10 anni io se fossi un allenatore da settore giovanile se io non mi alleno la mattina o il pomeriggio io la prima cosa che faccio vado a vedere il mister perché perché uno che dà migliora se voglio migliorare io io la prima cosa che faccio vado a vedere l'allenatore della prima squadra e vedo cosa fa quando uno dice vado a vedere il Pescara allenarsi e viene a vedere viene al campo i tiri in porta le trecce che si facevano una volta ma lui perché sta 30 anni avanti ma facciamo stare è una questione di cultura e uno vede calciare in porta oggi Cuppone parlo di Cuppone al di là degli errori Cuppone ha fatto una partita a livello tecnico ieri perché non ci dimentichiamo i tre assist che ha fatto il primo è stato pazzesco quello su Mero è migliorato anche lui sta migliorando anche lui perché continua lui a migliorare i giocatori noi dobbiamo trovare questo tipo di allenatore perché purtroppo in futuro ci sarà bisogno è questo che infatti gli devo dare uno che sta a casa e diceva allora quando Zeman non gli augurerà più quando Zeman non allenerà più come farà qui chiudiamo il pescaratro no il pescaratro innesterà nella filosofia del club quello che può rappresentare poi il club che si unisca a quello che è il nostro pensiero perché poi non si parla di preparazione si parla di idea che è diverso perché la preparazione inizia ma non la può fare nessuno il copia e incolla non esiste perché hanno fallito tutti nel copia e incolla dovrai avere le idee chiare tu ad entrare nel nostro club però tu sai che il nostro club vive di quello lavora così se la potete agganciare a questo discorso si volevo fare una domanda in due non come la ragazza volevo chiederti intanto quanto è stato se è stato difficile far passare questo concetto con la dirigenza col presidente aspetta e poi l'altra siccome non è un mistero che insomma molti vedevano in Sebastiani un uomo un factotum che faceva aveva l'idea di essere allenatore di essere direttore sportivo da quando sei arrivato tu devo dire il suo il suo ruolo anche da un punto di vista del comunicativo si è abbastanza fissato sul ruolo dirigenziale visto che la tua presenza è servita soprattutto a sgomberare il campo da equivoci sulle scelte di mercato e soprattutto sul suo ruolo quindi due domande l'una quando e se è stato difficile far passare questo concetto e poi il ruolo del presidente rispetto alle scelte di mercato che oramai chiaramente tutti è stato difficile ricorda domanda contiene la risposta da prima sì quasi sì però voglio capire no no ma non te lo dico in maniera semplice partiamo dal presupposto ho avuto un vantaggio sicuro il vantaggio sicuro è quello che io avendoci lavorato un minimo di conoscenza nei suoi confronti ce l'avevo sia da lui nei miei confronti io nei suoi confronti prima del tuo avvento però il ruolo era abbastanza nebuloso nel senso che al presidente si imputava proprio il fatto di fare un po' tutto di occuparsi di mercato di occuparsi invece col tuo arrivo devo dire questo è un dato storico incontrovertibile i ruoli sono stati oggi sono molto più definiti voglio capire quando è stato se è stato facile se è stato difficile perché basta comunicare bene con le persone basta spiegargli le cose perché poi uno quando argomenta con un presidente che sia un presidente che sia un dirigente un direttore generale quando argomenta deve sapere argomentare che è la prima cosa perché poi io argomento in maniera semplice calcisticamente gli spiego le cose il perché piuttosto che Paolo prendo Luigi devi dare una motivazione ben precisa con lui questo vantaggio io l'ho avuto perché lui bene o male mi conosce da sempre e sa forse mi ha dato fiducia per un minimo di competenza che possa avere calcisticamente cosa che a qualcun altro non ha dato perché lui si è sentito in grado di comunque di essere capace può capitare nell'arco di 10-11 anni di gestione di esperienza pensare che l'esperienza ti porti anche a capire di calcio perché poi lui non è che non ci capisce attenzione che se no si fa ha cominciato a capire come si stia però naturalmente il ruolo tecnico è un'altra cosa però poi è venuto dietro a quello che si parlava prima della filosofia cioè io cerco una strada io devo trovare una strada questo te lo riconosco sei stato veramente bravo nel saper catechizzare una società su questo concetto poi Paolo diciamola a tutte poi io c'ho sintonia con lui sono gli anni più difficili a livello finanziario per questa società ma certo il conto è lavorare in B ci sei arrivato comunque un budget no ma al di là del budget questo vuol dire che devi avere anche sintonia con una persona Paolo cioè io con lui nonostante discutiamo come tutte le persone come voglia Marino di tutto questo mondo ne discutiamo delle volte non ci parliamo per due o tre giorni capita fa parte di questo gioco e ho sintonia con lui quando hai sintonia con una persona anche arrabbiandoti discutendo puoi riuscire a raggiungere quello che è il tuo obiettivo di pensiero e con lui io ci riesco non riesco a alla base alla base parliamo della fiducia invece due domande in una te le faccio anch'io seguo il modello De Carolis cambio argomento e parlo del campionato in fin dei conti la collocazione nel girone B è una collocazione favorevole oppure come aveva detto lo stesso Sebastiani quando ancora c'erano dei dubbi il girone B è il più difficile dei tre e l'altra domanda è di questo girone quali sono le squadre rivali del Pescara a parte quelle scontate la Spalla il Perugia che sono retrocesse dalla Serie B ma questa Carrarese è una meteora oppure è una squadra destinata a durare con la tua esperienza calciistica poi la spera di cristallo non ce l'abbiamo certo dei gironi io parlo in maniera uguale perché facciamo la Serie C tutte e tre e quindi secondo me un girone vale l'altro non ho questa non ho questa preclusione ma no ma Paolo se tu non ti dimenticare che l'anno scorso ha vinto i playoff una squadra che ha fatto il girone A e che io sono andato a vedere per tante volte sono andato a vedere il C l'anno scorso ha trovato una squadra che ha spaccato il campionato che era il Carazzaro che quest'anno non succederà più il B ha trovato due squadre Reggiana e tre squadre Reggiana Cesena e Intella fino a due domeniche della fine si sono giocate il campionato il girone A ha trovato quattro squadre che si sono giocate a quattro domeniche della fine ancora il campionato secondo me in quel caso il girone C potrebbe essere il più facile il nostro ma non era vero la categoria è quella però al ridosso della finale hai portato due squadre hai portato Cesare Foggio ma dipende anche perdonami dalle annate ci sono annate che è una squadra che costruite in un modo la stessa squadra erano dopo arriva penultima cioè dipende io ritengo che il girone B chiaramente poi a partire ne possiamo parlare dopo il giro di andata secondo me perché la devi vedere però il girone B secondo me è più complicato del girone C a livello tecnico perché ci sono tante squadre toscane cioè che sono squadre che non è facile per me la categoria è quella non è che ci sono giocatori da serie A in un girone del giocatore da serie B nell'altro girone per me i giocatori sono tutti da serie C fondamentalmente perché se fanno la serie C un motivo ci sarà poi ci sarà qualche ecco se tu mi fai un discorso di organici della completezza di organici nel girone B oggi io ti dico la Carrarese il Gubbio sicuramente l'ancora stessa la spalla le due retrocesse le metto da parte perché comunque hanno fatto la serie B l'anno scorso saranno sicuramente due che vorranno risalire questo è indiscutibile l'Entella il Cesena il Pescara l'Entella male male saranno saranno però attenzione anche questo da un quadro nel nostro girone di partite più aperte più tecniche più equilibri cosa che l'anno scorso tu andavi a Taranto trovavi il campo di patate hai preso tre gol e sei tornato a casa in quei campi molto probabilmente troverai in questi sette otto campi troverai un equilibrio diverso l'anno scorso andavi Crotone Catanzaro Foggia perché quelle erano il resto il resto era molto più abbordabile molto abbordabile il Picerno è stato una meteora fino a un certo punto poi uscite i playoff il Gerbison all'inizio il Gerbison sembrava una squadra di fenomeni secondo me il tasso tecnico sicuramente del girone B è un tasso tecnico un po' più con partite più aperte ci si chiuderà di meno a differenza del girone C che tu andavi a Taranto tutti dietro e ripartire Giuliano stesso Gerbison stesso Monterosi stesso Viterbo stesso però fondamentalmente poi ci mancheranno le conferenze stampa dell'allenatore di Taranto anche quelle e le due sarde sono sono le due sarde una è una squadra molto tignosa che è la che è la Torres che io ho guardato attentamente e l'altra è una squadra molto quadrata che è l'Ombia queste sono le due differenze di queste due con De Sena con De Sena e sono due squadre comunque che da attenzionare allora vogliamo sentire anche il presidente Sebastiani a fine partita quali argomenti ha trattato con Paolo Renzetti Cuppone ha giocato una grande gara di sostanza però una tiratina d'orecchie meriterebbe una tirata d'orecchie però poi merita anche un applauso per quello che ha fatto durante i 95 minuti quindi speriamo che capisca che questa sera ha fatto qualche errore di troppo che ha peccato un pochettino di egoismo e portiamo a casa sicuramente la consapevolezza di essere una squadra che gioca a calcio e che gioca bene a calcio e per questo come dicevo al tuo collega io sono felice perché ho visto una squadra veramente pimpante bella tecnicamente valida una squadra che arriva 20 volte in porta non può che farmi piacere ripeto un pareggio ottenuto contro una squadra importante una squadra che ha giocatori molto molto validi è un allenatore bravo e che sicuramente sarà una delle protagoniste io mi auguro devo dire spezzare una lancia a favore del mio amico presidente del Perugia perché venire allo stadio e sentire certe cose fanno male può essere anche un presidente come me che non siamo sicuramente due presidenti industriali grandissimi però facciamo tanti sacrifici e Max fa lo stesso qui a Perugia quindi mi dispiace e spero che la gente capisca quanti sacrifici si fanno per portare avanti una squadra di calcio a proposito di tifosi tanti tifosi questa sera da Pescara alcuni sono arrivati tardi ma hanno tifato davvero forte per la squadra in alcuni tratti di partita sembrava di essere all'Adriatico lo stadio lo permette anche perché lo stadio a differenza dell'Adriatico è attaccato quindi è uno stadio che ti fa sentire veramente la tifoseria sia da una parte dall'altra i nostri sono stati encomiabili dispiace solamente che siano entrati in ritardo non so il motivo per il quale siano entrati in ritardo era già successo una volta qui a Perugia e credo che chi ha la competenza per fare queste cose dovrebbe cercare di privilegiare lo spettacolo e magari controllare qualcosa in più perché vedere durante una partita fumogini da tutte e due le parti mi sembra una cosa un pochettino esagerata mentre non far entrare o magari metterci tanto tempo per far entrare i tifosi credo che qualcosa si possa migliorare da questo punto di vista allora Deligari cosa è successo per questo ritardo dei tifosi a Perugia perché qualcuno sostiene che ci sono stati problemi logistici di traffico voci dicevano problemi di traffico problemi logistici arrivati allo stadio si sono soffermati un po' di più davanti allo stadio quindi prima di entrare hanno avuto un problema organizzativo quindi sono entrati più tardi chi è arrivato prima chi è arrivato dopo però sembrerebbe che questa sia stata poi la problematica vera hanno trovato dei lavori questi 600 tifosi ma questo è incomiabili davvero spettacolo sugli spalti questo discorso sul collega Santo Padre sono due presidenti un po' vicini nelle difficoltà ma io vedo che tutti i presidenti in tutti gli stadi vengono contestati e già questo è un fattore grave perché uno ci mette passione soldi amore tutto quello per la propria città perché poi Sebastiani in differenza di Santo Padre è di Pescara Santo Padre è di Roma quindi stiamo parlando anche di due cose differenti ma dove vai vai c'è sempre qualcosa nei confronti dei presidenti tante volte io tante volte devo dire la verità non lo capisco perché dico non è possibile che si arrivi a un'esagerazione del genere perché comunque sia hai un presidente della tua città oggi è vero noi viviamo una categoria che molto probabilmente è penalizzante è penalizzante tutto quanto ma quante società sono fallite nel tempo sono andate in malora sono elettrocessi in cerci e sono fallite qui bene o male c'è un presidente che dà continuità nel tifoso scusa Daniel nel tifoso c'è è la visione d'assieme che porta ad avere un atteggiamento ma dammi una reale motivazione per contestare chiaramente se tu senti io dirigo ho la fortuna non so in maniera molto indegna ed immeritata di dirigere il portale Forza Pescara leggo sono anni che leggo cioè non è chiaramente in questi ultimi anni te ne davo merito ma non per ruffianeria è cambiato anche il suo modo di porsi negli anni sono stati sbagliati alcuni atteggiamenti alcune scelte che hanno determinato anche certi risultati e sai nel tifoso è difficile ma tu pensi che lui avrebbe no ma io non sto dicendo che ci sia dolo attenzione tu chiedi perché io cerco di leggere un dato storico cioè negli anni si sono sovrapposti degli errori degli atteggiamenti che hanno allontanato cioè sai che cosa Paolo ma chi è che non sbaglia chi non fa ma certo ma nello stadio la presenza allo stadio che negli anni un po' ha visto assottigliarsi i numeri delle presenze scusatemi la ripetizione è chiaro che quello è un segnale però questo non significa che è un atteggiamento critico che nel calcio l'atteggiamento critico ci sta sempre vedi negli ultimi due anni questa acrimonia non c'è soprattutto in questo periodo credo che si sia ricreato il clima giusto esatto però non puoi dire perché te lo dico presenze contro la Juve ieri si è stato tifosi a Perugia si sta ricostruendo è fondamentale avere il supporto ambientale sicuramente ambientalmente devo dire la verità si vive un clima più sereno ma non solo più sereno vedo un clima di voglia di vicinanza di voglia si nota ma anche lui ha cambiato atteggiamento nella comunicazione questo si apprezza ma gli errori tornando a Perugia come è stato per il Pescara sono città non è il Monterosi non è la CESO dove c'è la frustrazione del CESO per una categoria che non è appropriata a Perugia ma come è Pescara c'è la città Perugia una retrocessione per quello non si tratta di essere presuntuosi no 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 hai mangiato hai mangiato sempre il camionale hai la mortadella se ci fosse allora se uno sbaglia con dolo è un discorso no ma infatti ma nessuno dice questo se uno sbaglia fa degli errori o gli errori mi commettiamo tutti però non dimentichiamo sempre che il tifoso va allo stadio è una piazza importante Paolo perché noi stiamo parlando di una piazza importante come Pescara quindi non è facile anche vivere per un Presidente ma anche per i Presidenti passati che sono successi noi ricordiamo il Cipiglia anche per i direttori anche per i direttori ma perché non c'è niente per non parlare degli allenatori ma allora il direttore già il direttore i giocatori e gli allenatori hanno già una figura diversa e tante volte possono essere contestati per quello che fanno un Presidente che ci mette animo cuore passione può sbagliare insieme al direttore insieme all'allenatore insieme ai giocatori però io non condivido non condivido questa credine ma no non la condivido lo sai per quale motivo ma certo quando si esagera è sempre deprecato ma per l'amore di Dio non la condivido per un semplice motivo perché non è un Presidente che ti ha lasciato in mezzo a una strada questo ricordate però attenzione è successo non ci dimentichiamo noi ci ricordiamo molto perdonatemi dimentichiamo quello che fa la squadra se la squadra gioca come ha fatto l'anno scorso il playoff quest'anno ti riprendi in un certo modo se la squadra fa prestazioni abbastanza disarmanti come ha fatto hai 3-4 mila spettatori poi tu secondo me hai dato troppa importanza al discorso del Presidente dell'Elettore Sportivo sul tifoso che va allo stadio perché alla fine sì anche sulla contestazione ci sono quelli che lo dicono che manco sanno chi è ma il tifoso ma il diritto al tifoso partiamo dal presupposto ha diritto anche a contestare ci sono modi e modi per cari di Dio ma quello che ti voglio dire la costanza perdonami il mio discorso è un discorso un attimino diverso e ti dico perché mi è capitato di parlare con il Presidente sul marciapiede tutte le persone che sono passate Presidente ciao nessuno è passato perdonami e davanti gli ha detto qualsiasi cosa allora la sua considerazione la mia è stata ma tutta questa cosa è possibile è perché magari c'è il ragazzino allo stadio che va e non sa neanche quello che dice questo vale anche in politica c'è la cosiddetta maggioranza silenziale ma no Luigi quali sono le due persone più contestate in una città il Sindaco e il Presidente del Pesano li abbiamo condiviso a tra poco bellissima è vero sempre ogni volta notti d'oro in corso Umberto I 310 a Montesilvano ha aperto un nuovo store di oltre mille metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali Dorelan Dorsal Simons Manifattura Falomo inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi Noctis Le Comfort Samoa da Notti d'oro conviene Notti d'oro Corso Umberto I 310 Montesilvano Dorsal DZ Insurance Sport oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport prodotti altamente mirati per atleti professionisti un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale questa è la DZ Insurance Sport Zampa corta assicura lo sport Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali interni ed esterni in tutta Italia realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere ristrutturazioni chiavi in mano attività commerciali impianti sportivi impianti idrici ed elettrici arredamento su misura controsoffitti e cartongesso isolamenti termici ed acustici strutture esterne per gotende e tetti in legno arredo urbano in genere su tutti i social trovi sempre online le nostre novità contattaci su timerevestimenti.it Salve, sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio da quel momento, da 72 anni la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa nella zona dello stadio triatico Emilio e Alfredo De Florentis 085 66 021 Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X Panda, Tipo ed il ritorno del mito la nuova 124 Spider e poi lancia a Abarth e veicoli commerciali inoltre la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali la concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara con ingresso in via Raffaello 30 aperti anche il sabato mattino e pomeriggio Ora 22 e 6 minuti torniamo in diretta con il direttore sportivo della Pescara Daniele Delicarri però vorrei andare in postazione ad Andrea Costantini intanto aggiornamento sui posticipi poi ci sono due notizie di giornata che riguardano Pogba e anche Berratti se ci dai un po' di news Sì, per quanto riguarda la Serie C tre vantaggi interni tutti di misura il Benevento avanti sulla Virtus Francavilla 1-0 gol di Ferrante il Foggia poco fa sbloccato contro il Giuliano in vantaggio rete di Tonin Picerno avanti sul Taranto 1-0 gol di Albadoro derby campano sullo 0-0 tra Juve Stabia e Avellino le notizie di giornata intanto per quanto riguarda Pogba il centrocampista della Juventus trovato positivo al testosterone il Tribunale antidoping ha sospeso in via a cautelare il centrocampista francese in attesa poi delle controanalisi poi ci saranno ovviamente ulteriori sviluppi in base all'esito delle controanalisi poi l'altra notizia riguarda l'altra notizia riguarda Marco Berratti centrocampista di Manoppello che sta per trasferirsi da Paris Saint Germain alla squadra catariota dell'Alarabi trasferimento non ancora ufficiale peraltro con delle conseguenze positive da un punto di vista economico anche per il Pescara però si è parlato molto di Berratti nelle ultime ore per un presunto rifiuto dell'ultima convocazione almeno questa è un'indiscrezione che è stata rilanciata dall'equip è ripresa poi da tante testate nazionali qui vediamo Sport Mediaset però in conferenza stampa Spalletti oggi a rappresentare la partita contro l'Ucraina di domani ha detto io ho parlato al telefono con tanti calciatori tra cui anche Berratti lui mi ha garantito che nonostante il momento che sta attraversando è disposto a darci assolutamente una mano quindi ridimensionando questa voce a te Delicari che idea si è fatto di questa querella tra Berratti e la nazionale? ma no assolutamente io penso che sia un giocatore che abbia amore facciamo completare amore nei confronti della sua nazionale io penso che ce l'abbia quindi naturalmente le sue condizioni in questo momento è stato fuori rosa si sarà allenato poco la nazionale ha bisogno di prontezza e quindi di conseguenza se l'allenatore l'ha detto è scoppiata una polemica inutile ma riportata dall'equip che tra l'altro in questo periodo lo sta massacrando continuamente e quindi di conseguenza hanno tirato fuori questa chiamiamola bomba diciamo che avrebbe rifiutato l'anzionale ma non ci credo minimamente tante per le persone però ricordiamo ricordiamo pure una cosa che è più sfuggita nella gestione della nazionale di Sacchi fu convocato Mancini Mancini rifiuta la convocazione è successo no no le carte federali però dicono che i giocatori che hanno rifiutato la nazionale non possono né allenare per lui è stata fatta non possono giocare se non sbaglio il regolamento dice nessuno l'ha mai detto questo se tu rifiutirai due domeniche due domeniche tu non puoi giocare a parte che la notizia di Verratti circolava già da un po' e si capiva benissimo che era strumentale per mettere in cattiva luce lui però l'allenatore della nazionale aveva rifiutato la convocazione con Sacchi ha fatto l'allenatore sì 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 quindi vabbè tutta la veramente la tronata perdonami Spalletti si è sincerato sulle condizioni e se Verratti gli ha detto guarda mi sono allenato poco è anche senso di responsabilità è anche giusto però e rispetto alla Verratti ti voglio dire che credo che è stato massatrato perché è italiano perché i francesi verso di noi quando possono dare un carico lo danno questa è la vera verità cosa che noi non facciamo con gli altri tu io mi sono recato tante volte in Francia l'atteggiamento dei francesi verso gli italiani è sempre quello quindi però Verratti è stato un idolo a Parigi per anni e anni sì ma appena hanno potuto l'è stato massatrato secondo me anche ingiustamente perché è stato tratto dei casi enormi che potevano benissimo far rientrare siamo a 20 minuti dalla fine direttore sta vivendo questo secondo anno di esperienza con il Pescara dopo che ha vissuto quella splendida cavalcata del 2011 esperienza che nella sua carriera quanto vale? tantissimo forse è stato questa parlo in questa tantissimo tantissimo questa perché quindi tutto al di là dell'età diciamo beh va bene ho 11 anni di più rispetto a quell'anno a quell'anno lì ho comunque pensato di fare calcio in una certa maniera di poterlo fare in una certa maniera con una persona che mi conoscesse realmente come il presidente dandomi l'opportunità comunque di fare quello che penso che è il mio pensiero calcistico condividendo sempre perché non è che sono un dittatore o lui è un dittatore assolutamente cerchiamo sempre di condividere tutto quello che è il nostro pensiero come dicevo prima argomentando perché poi vale quello per noi che quando diciamo un giocatore è forte c'è argomentare perché è forte perché lo si ritiene forte come l'allenatore oggi con l'esperienza acquisita per me è un'esperienza importante questa di questi due anni e spero di vincere che metodo di lavoro ha Dell'Icarri perché in due anni non so se sono d'accordo anche gli amici di studio veramente ha portato a fior di giocatori in Serie C che sembra un campionato facile invece lì devi proprio conoscere ancora di più perché i professionisti in IMB è più facile trovarli in C e a luce di quanto è accaduto anche 11 anni fa questo direttore che valutazione ha nell'ambito nazionale lo chiedo un po' a tutti voi Luigi un'ottima valutazione intanto Dell'Icarri è uno che ha una storia calcistica e secondo me questo pesa perché ci sono direttori bravissimi che si sono comunque formati che hanno studiato che sono dell'ambiente ma magari non hanno la storia calcistica di Daniele questo secondo me è un vantaggio per lui perché se Daniele riesce a portare certi giocatori questo è frutto di una serie di relazioni che accreditano lui e che derivano dalla sua storia calcistica e dal fatto che lui per lui calcio è quotidianità da quando era un ragazzino quindi come tutte le cose come tutti gli ambienti il calcio è fatto di relazioni di credibilità di affidabilità di serietà nelle interlocuzioni con gli altri quindi io credo che nel panorama calcistico nazionale Daniele sia considerato e secondo me la serie C così come sta stretta la città di Pescara sta stretta anche a Daniele quindi in questo momento Daniele opera a Pescara è la sua città la città in cui ha scelto di vivere però è ovvio che nella sua carriera anche se dice sono passati gli anni è giovane una promozione quindi una ribalta calcistica diversa è quella più consona anche alla sua caratura generale oggi di direttore sportivo ieri di giocatore affermato in Serie A Francesco la fortuna di Delicarri è lavorare con Zeman o viceversa? Beh mi verrebbe da dire tutte e due però Delicarri ha dimostrato anche in altre occasioni di essere profondo conoscitore della materia e Zeman ha fatto bene anche senza delicarri mi viene da pensare che forse si completano entrambi e entrambi si divertono a tra virgolette a lavorare a preventare che Zeman era abituato a lavorare con un fior di direttore come Giuseppe Pavone appunto con un direttore che prima come Pavone conosceva tutto il mondo calcistico la stessa cosa Delicarri e adesso in una categoria dove verosimilmente è più difficile lavorare rispetto alla Serie B o magari alla Serie A Riccardo cosa non ti piace di Delicarri? Beh io sono suo amico mi fai una domanda che non posso rispondere no invece ti voglio dire una cosa lui è uno che ci crede ed è fondamentale è un uomo deciso è un uomo che ha le idee chiare sa dove andare si prende responsabilità quando sbaglia fortunatamente sta sbagliando poco però è uno deciso che va dritto per la sua strada ha un allenatore che si fida di lui ma se Zeman si fida di Delicarri perché Delicarri ha la fiducia e perché se la merita perché Zeman non è sicuramente un tipo di allenatore con l'esperienza che ha che lascia dicendo mi serve un'ala piuttosto che un altro giocatore quindi tutti i meriti che ha Daniele e io ripeto lo conosco bene ci siamo parlati un giorno quando non so se ti ricordi sotto l'acqua torrenziale e lui non era il direttore sportivo del Pescara e ci parlavamo e lui io sono felice per lui perché ribadisco ha le idee chiare e va per la sua strada e questo è fondamentale secondo me in tutte le attività manageriali ma soprattutto dove lui ha rapporti con la squadra con i tifosi con il presidente quindi ha un ruolo molto cardine e bisogna avere gli attributi con i tifosi il rapporto è stato un po' recuperato perché all'inizio non erano roseffioni ma ho capito è anche questo recuperare il rapporto è sempre perché tu hai le idee chiare fa parte del gioco cioè ma non si è mai nascosto dietro niente questo è fondamentale si è sempre messo davanti nel bene o nel male e questo secondo me fa un grande manager Paolo su Deligarri trovi qualche qualcosa di negativo eh sì sono a parte l'abbronzatura che è quella che compete purtroppo eccessivamente con me ma al di là di questo credo che la gestione dell'ultimo dello scorso anno la gestione delle ultime partite io per esempio la scelta del portiere nella partita di ritorno cioè non l'ha fatta lui però la gestione di alcuni cambi è quella per esempio sono elementi che sono rimasti nell'immaginario collettivo la scelta anche ai rigori di non cambiare il portiere che poi alla fine a distanza di tempo però sono scelte tecniche voglio dire sono scelte di discussione bravo siccome so che queste scelte sono nate dentro comunque dei confronti io da lui siccome so che ha personalità e competenza mi sarei aspettato un po' più che puntasse i piedi io sinceramente con tutta la stima di questo mondo ma vedere il portiere sui rigori parare dentro la propria linea l'abbiamo visto tutti non lo voglio colpevolizzare e tenere in panchina un portiere strutturato che poi tra l'altro diventa il portiere titolare che era molto più strutturato fisicamente aveva più esperienze da uno come lui che stimo io e lui ci conosciamo lui ce lo ricordiamo del giocatore abbiamo cominciato a litigare del giocatore cioè è che ci litighiamo da oggi però voglio dire lì io da te mi sarei aspettato no perché sostituzioni quello che lui giustamente dice io a Zema la stessa sera gliel'ho domandato con un'altra domanda e lui ha risposto la stessa sera lui ha risposto io non ci ho pensato ma se ci pensavo non avrei messo plezzare questa risposta di Zema in conferenza allora ora rispondo a Paolo perché vabbè ma tu lo sai che la domanda affettuosa è la stima no non è ruffianeria figura di Paolo rispondo io parto da un presupposto molto importante il comandante dello spogliatoio è uno solo è facile delegittimare un allenatore facilissimo è la cosa più semplice di questo mondo è delegittimare un allenatore in quella circostanza perché bisogna rispondere poi di quello che è accaduto in quei giorni lì ci sono stati dei disguidi tra allenatore e portiere ma non disguidi di natura caratteriale o piuttosto io non ti faccio giocare faccio giocare l'altro a livello fisico perché comunque il giocatore veniva dal giorno di Foggia della partita di Foggia che era stato sostituito tra il primo e il secondo tempo per un problema fisico e non c'era la certezza che lui potesse giocare partiamo da questo seconda cosa che succede noi giochiamo di domenica giocavamo di giovedì a Pescara la seconda cosa che succede lunedì non si allena perché ancora dovevamo fare esami strumentali perché non si fanno dopo 24 ore bisogna aspettare 48 ore quindi al martedì noi abbiamo fatto gli esami strumentali non c'è la certezza che il ragazzo potesse mantenere tutto cambiare un portiere si può fare tutto nel calcio perché si può fare tutto cambiare un portiere solo per fargli parare i rigori non avendo un portiere acquisito in quel momento alla porta e metterlo lì in porta solo per parare i rigori io non so in quanti l'avrebbero fatto Iacone ti ricordi Iacone infatti io ho detto io non so in quanti l'avrebbero fatto poi lui decide fa una scelta una scelta non condivisibile ma da accettare perché lui fa l'allenatore perché secondo domani io mi sveglio voglio mandar via l'allenatore insieme al Presidente devo avere la contezza di quello che faccio legato al fatto che posso aver fatto qualcosa di sbagliato perché io sono un attento osservatore dall'allenamento alla partita per vedere che l'allenatore mio sbagli il meno possibile con le sue idee naturalmente e non con le mie idee perché io faccio un altro ruolo questo è fuori discussione però naturalmente faccio un'analisi ogni partita faccio un'analisi ogni domenica faccio un'analisi cosa avrebbe potuto fare di meglio l'allenatore ma cosa avrei potuto fare di meglio anch'io nel dargli i giocatori queste analisi si comparano molto e quindi di conseguenza per me vale il comandante il comandante è lui se sbaglia paga se non sbaglia non paga Andrea Costantini una curiosità perché non è passata inosservata ieri la presenza in panchina addirittura del presidente onorario Marinelli come è nata questa idea e quanto può anche caricare un po' il gruppo la presenza di una persona così carismatica la presenza di una persona storica partiamo dal presupposto una persona di 87 anni che vive di calcio da forse da sempre da sempre dopo Galeota ci fa noi ci fa enormemente piacere è una figura comunque che fa parte dell'organigramma societario perché è il presidente onorario del Pescara e quindi ha deciso di stare vicino all'allenatore di stare vicino alla squadra e noi siamo felici di questo ma ci andrà sempre oppure è stato casolare? quando ci vuole andare ci va ci è andato domenica in casa con la Juventus è andato domenica sta bene sta con la squadra ha voglio di stare con la squadra è una persona che col presidente c'è grande stima con tutto l'ambiente calcistico per Scara Calcio c'è grande stima della persona e quindi salutiamo il buon Vincenzo Marinelli allora lo scorso anno il messaggio era dobbiamo fare un campionato importante però è un ciclo pluriennale quest'anno c'è un obiettivo oltre a far divertire i tifosi cioè si punta sempre alla promozione ma certo ma non ci possiamo nascondere è inutile quando si parla di campionato diverso è per cercare di vincere il campionato perché non è che il Pescara può partecipare il Pescara deve provare a vincere deve provare a vincere ma non con i nomi deve provare a vincere con le idee torniamo sempre lì o non con i soldi provare a vincere sempre con le idee questo diventa determinante non è che ci nascondiamo non è che uno ci può nascondere dietro un dito noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato di vertice non ci dimentichiamo non è che abbiamo fatto un campionato per comparire siamo arrivati a un passo l'unica squadra che non ha perso i playoff l'abbiamo perso i rigori di tutte le squadre che hanno partecipato i playoff quanto tempo ci ha messo ad assorbire no devo dire la verità il giorno dopo il giorno dopo ho cancellato il giorno dopo ho cancellato tutto perché dovevo pensare a quello che era all'amarezza era profonda avevate il piano A e il piano B sì sì ma sull'aspetto programmativo noi eravamo molto sereni eravamo tranquilli ecco perché l'ho cancellato perché al di là per un fatto di esperienza anche forse chi l'ha cancellato meno devo dire la verità è stato l'allenatore secondo me e il presidente ma io ho dovuto cancellare per una questione lavorativa dentro è normale che c'è un grande rammarico c'è stata una grande opportunità di poter salire hai parlato mai a lungo scusa se ti interrompo di quella partita con Zeman noi la sera dopo la sera dopo il venerdì siamo andati a cena solamente io lui e il presidente siamo andati a cena abbiamo parlato un po' di tutto in generale di quello che si poteva fare quello che non si poteva non fare ma cose normali però è normale che io nel ruolo che ricopro non posso pensare al passato devo pensare al futuro vi disse subito che sarebbe rimasto a pescare sì subito quella sera stessa era una forma quando si parlava anche lì del contratto era solo una formalità e basta anche perché c'era il matrimonio del figlio lui quindi doveva andare a Palermo i tempi erano molto stretti non c'era l'opportunità di fare il contratto dell'immediato ma questa stagione arriva con un anno di ritardo cioè la vicenda Colombo avresti voluto Zeman già lo scorso anno arriviamo con un anno di ritardo no non arriviamo con un anno di ritardo perché come vedi la squadra comunque poi alla fine anche non rispecchiando i canoni dell'allenatore se tu ci pensi Zeman se fai un escursus molto lungo e anche datato Zeman le squadre che ha preso in corsa ha sempre fatto male sempre storicamente appunto ecco perché ti dico perché Zeman non è arrivato lo scorso anno attenzione ha fatto bene a quattro mesi dalla fine perché evidentemente come dicevo prima c'è da dare merito a Colombo perché la base della squadra evidentemente a livello fisico era ottima non buona ottima c'è da dare merito a Colombo che ha lavorato sui giocatori e poi c'è da dare merito a Zeman che evidentemente ha trovato una squadra non dico consona in tutti i canoni alle sue aspettative ma la maggior parte se oggi 7 undicesimi sono ancora qua ma non è che l'avevi costruita per Zeman lo scorso anno e poi hai trovato Colombo assolutamente perché il mister poi Colombo si è adattato velocemente perché non ci dimentichiamo che noi fino alla quindicesima di campionato noi abbiamo fatto 14 partite che tutti nutrivano perplessità continue 14 partite perdendone una pareggiandone una e vincendole tutte cioè quindi non poteva essere un caso siamo stati anche in una condizione ottimale perdendo una partita con Catanzaro lascia perdere il risultato ma fondamentalmente l'allenatore la sentiva la squadra perché se no 14 risultati non li fai non arrivano poi sono successe mille cose capita nel calcio Pescara è una piazza importante va gestita a 360 gradi perché non c'è solo l'aspetto del mercato dell'allenamento cioè secondo me la gestione deve essere un po' più ampia anche comunicativa questo secondo me è determinante ti rimproveri qualcosa su quella dice? ma no io cerco sempre di guardare quello che ho sbagliato l'anno scorso ma l'unica cosa che un po' mi rimprovero può essere di non aver preso al mercato di luglio e agosto di non aver preso prima Merla l'estate scorsa sì per una questione di coppia quest'anno invece sono stati raggiunti tutti gli obiettivi sì sì quest'anno noi abbiamo raggiunto quello che volevamo Delicare quando pensa al futuro intanto se ci pensa a quale futuro pensa? a domani Pescara oppure il futuro è domani? il futuro per me è sempre domani però naturalmente siccome guardo guardo avanti io poi sono un ambizioso lui ha detto una cosa sacrosante sono il primo che ci crede e sono convinto che questa società tornerà dove merita con senza Delicare e se arrivano a richiesta di un club importante? ma in questo momento non ci penso minimamente no non ci deve pensare lei se arriva qualche richiesta non ci penso perché sono concentrato troppo sul Pescara però le dispiacerebbe lasciare Pescara un giorno? tantissimo tantissimo qua mi è dispiaciuto tanti anni fa bene siamo in chiusura ringrazio davvero Daniele Licari perché con lui poi si può parlare a 360 gradi facciamo un in bocca al lupa all'Italia perché domani è una tappa importante nella partita con l'Ucraina come diceva prima sì mancano gli allenatori però questa mentalità deve cambiare un po' nel calcio italiano soprattutto per dare felice ai tanti giovani come state facendo voi ma sì ma il futuro è quello non si può ma non cercando di condannare i giocatori che hanno un po' più di età ma fondamentalmente il futuro si costruisce da quello vogliamo dare aggiornamenti sui posticipi Andrea chiudiamo sì perché c'è stato il pareggio del Taranto con Cianci a Picerno 1-1 ma soprattutto tempi duri per Massimo Rastelli e per gli ex Biancazzurri Palmiero e Cancellotti ma anche per il quasi ex San Nipoli perché l'Avellino sta perdendo il derby campano segnato Bellici al 75esimo mancano 5-6 minuti e l'Avellino è sotto quindi occhio perché Rastelli traballa ricordiamo che si giocherà sabato alle 20.45 contro l'Arezzo poi martedì a Carrara contro il Sestri Levante poi c'è la sospensione della partita con il Pineto la data non è stata ancora indicata potrebbe essere l'11 ottobre potrebbe essere l'11 ottobre ma ancora non ci hanno indicata è un ciclo che vi permette oppure le squadre sono sempre insidiosi di guardare un po' di ottimismo nelle prossime gare? ogni partita ha una storia la partita di domenica abbiamo abbastanza conoscenza anche io C'è Agnello Cutolo direttore sportivo dell'Arezzo insieme a Giovanni direttore generale è una squadra molto particolare molto particolare molto particolare è una squadra è una squadra complicata al di là dei risultati che ha ottenuto ma è vero che Zeman non vuole nemmeno sapere come giocano le altre squadre non è vero assolutamente questo è un tasso nel senso no lui è quello è quello però c'è accortezza nell'andare a fare tatticamente alcune cose grazie a Daniele Di Carri in buca lupo per questa stagione grazie a Luigi Albori Mascia Francesco Di Francesca Riccardo Clinco a Paolo Di Cavis grazie Andrea grazie a Antonio Di Berardino a Telecamere a Maurizio Daguì noi ci rivedremo lunedì prossimo grazie per averci scelto grazie a tutti 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 Grazie a tutti